Luca Fusari della CGL Abruzzo Molise, oggi a Montesilvano per protestare proprio sotto il palazzo di città. Intanto perché questa sede? Abbiamo deciso questa sede nella manifestazione di tipo regionale perché è dove è presente l'azienda che ha più dipendenti per quanto riguarda il contratto lettivo nazionale UNEBA. E' solamente questo il motivo per cui è stata fatta qui, la rivendicazione di tipo nazionale, quindi non c'è una rivendicazione ai confronti dell'azienda, ma a livello nazionale per il rinnovo del contratto lettivo nazionale che è scaduto da quattro anni e siamo in trattativa da 17 mesi ma non si riesce a trovare una sintesi in quanto UNEBA nella sua proposta non va oltre il riconoscimento del 50% del tasso di inflazione che vorrebbe dire una perdita d'acquisto da parte dei dipendenti che lavorano, le aziende nelle cooperative. Inoltre c'è da affrontare tutta la parte normativa, compresa l'introduzione della terza gamba al settore previdenziale o quindi il fondo previdenziale aziendale integrativo che è un elemento importante per dare maggiore sostegno e certezza per quanto si va in pensione anche ai dipendenti del contratto UNEBA. Secondo voi manca la volontà politica? Sì, secondo noi non c'è una volontà a voler portare avanti questo tipo di discorso anche di riconoscente di dignità professionale ma per una questione anche di tipo economico che UNEBA ci sta prospettando. Però come ho detto la sintesi si trova se c'è una proposta in qualche modo accettabile che non può essere quella fatta dall'inizio del 50% dell'IPCA, del tasso inflazione. Avete incontrato i vertici della sanità regionale? Cosa vi hanno detto? No, i vertici della cooperazione non li abbiamo incontrati direttamente, li abbiamo sollecitati affinché anche loro per quanto possano fare, perché è chiaramente un settore privato, stimolino UNEBA ad andare incontro alle richieste di tipo sindacale.